allora ragazzi superato anche il weekend cinese gare dalle molteplici sfaccettature abbiamo visto una ferrari che sotto certi punti di vista non è che ci abbia proprio entusiasmato abbiamo visto evidenti difficoltà nel mettere in temperatura le gomme gialla che è entrata in temperatura dopo circa sette giri con la hard per via anche delle safety car non abbiamo visto proprio questa gomma accendersi ci sono stati dei problemi sicuramente sotto questo punto di vista stiamo parlando di una prestazione non proprio all'altezza riconosciamo anche la super gara che ha fatto lando norris perché davvero secondo me ha overperformato rispetto a quello che era il pacchetto mclaren per questo weekend leclerc che nonostante le difficoltà con l'ottimo passo gara un po maschera i limiti della sf 24 ma un weekend no capita durante il campionato anzi capitano anche più volte i weekend no soprattutto se non sei il migliore in pista perché questa volta red bull era decisamente superiore rispetto agli altri la mclaren con lando norris era decisamente superiore ai due ferrari oggi terza forza abbastanza evidente anche se con piastri si limita un po il colpo in classifica comunque tutto sommato male non è andata e quindi forse qualcuno parlerà di disastro qualcuno parlerà di crisi per il gran premio cinese sì ma fino a un certo punto infatti mi vedete sono anche qui tranquillo non è che proprio stia urlando allo scandalo anzi forse ci siamo fatti prendere un po la mano dal fatto che eravamo abituati a vedere ferrari sul podio in questo inizio di stagione l'ottimismo del gran premio cinese l'avevamo detto l'avevamo stradetto io onestamente non me aspettavo di fatto così non è stato anzi col senno di voi portare un quarto e un quinto posto sia in sprint ma anche in gara lunga ok non è il risultato che vuoi soprattutto perché io spero in questa ferrari in lotta per il campionato costruttori o almeno che fa finta per provarci ecco se pensi a questo il risultato non va bene ma se pensi che ferrari comunque aggiornamenti non ne ha portati già mclaren si è riuscito a infilare in mezzo ai due red bull vai anche un po a pensare che qualcosa durante la stagione puoi costruire ovviamente non devi stare fermo è questo il tema infatti io col video di oggi faccio passare molto che secondo me gli aggiornamenti a imola sono un po in ritardo magari un po prima qualcosa a miami mi raccomando fate i bravi quello potrebbe essere un circuito cosa che cina secondo me non lo era quello potrebbe essere invece un circuito dove la ferrari magari può tirare fuori qualcosa di più magari in risposta a mclaren che lì è previsto un grande aggiornamento così da rimanere in lotta sempre per le zone podio e poi magari a imola vediamo cosa si può riuscire a fare sulla sprint non mi soffermo più di tanto perché la carambola che si è generata la lotta molto accesa tra sainz e le clerk ci ha realizzato uno short un reel un tiktok se non l'avete vista potete anche recuperarla si è stata importante si è costata qualche posizione ma dobbiamo un po contestualizzarla carlo sainz davvero usciva in lotta da fernando alonso un fernando alonso che ci ha provato in risposta al sorpasso di sainz loro due si sono ostacolati poi sainz si è trovato nel casino onestamente questa volta io credo tanto nella bontà di sainz ci sta che rispondi in quel momento alle clerk tant'è che poi chiederà pure scusa infatti io grandi questioni non ne ho fatte però spero che davvero tra i due nulla si sia rotto perché le foto che abbiamo visto su instagram dove sono sorridenti quando vengono presentati alla domenica siano davvero reali perché oggi in partenza un le clerk un po più a chiudere la porta all'esterno su sainz facendo passare anche un po rassol rassol che ha fatto una partenza incredibile l'ho visto ho detto se questi due litigano quello che abbiamo sempre visto finora e che abbiamo giudicato comunque un po al limite da entrambe le parti e non sono quindi pro sainz da entrambi lati vederlo molto più accentuato potrebbe essere un problema quindi spero vivamente che nulla si sia rotto quindi sprint race che voglio accantonare alla fine un punto in più un punto in meno ragazzi diciamo che preferisco fare terzo e quarto nella gara 2 piuttosto che in sprint ripeto sprint a parte forse il vero tema di oggi è là la posteriore scarica della ferrari soprattutto perché abbiamo imparato a conoscere la sf 24 quando non si riesce a mettere in temperatura le gomme è un gran casino e in questo caso forse avere un posteriore più carico avere un alla posteriore leggermente più carica ti aiutava a gestire meglio lo pneumatico e ti aiutava a metterlo subito in temperatura sfortunati perché dalle due safety car si magari vai a guadagnarci se lando norris non entra i box in tempo perché la direzione gara è molto lenta a scegliere se mettere la virtual safety o non metterla proprio se da un lato esci favorito perché mcclaren non rientra i box e tu rientri prima guadagnando qualche secondo dall'altro forse non ne esci poi tanto favorito se poi per mettere in temperatura le gomme ci metti tanti giri o perlomeno in questo caso con la hard non si può davvero parlare di aver visto una ferrari pronta sul passo gara poteva essere caricata di più l'ala posteriore probabilmente si avevi un'ala molto scarica in rettiline al terzo settore comunque non andai velocissimo però parlare dopo è sempre facile a freddo è facilissimo è capitato poi durante un weekend sprint quando non hai tempo per provare tutte quante le gomme e soprattutto perché probabilmente si è messa male a livello strategico per la rossa sono andati a conservare due gomme medie evidentemente non era nei piani il voler optare per il piano d ossia quello di una sosta con gomma h però ecco non stiamo parlando di super errori non stiamo parlando di disastro strategico cosa che per esempio con mercedes anche in questa gara voglio enfatizzare fortunati con la safety car fortunati perché luis Hamilton questo weekend è stato super però ricordiamo che luis è partito con gomma rossa dalla diciottesima posizione e in cinque giri era risalito soltanto in diciassettesima luis è stato dietro dal pin safety e Hamilton mascherano un po la performance di mercedes russell molto molto forte allo start risale subito in sesta posizione chiuderà poi sesto dietro sainz ci sarà anche un momento dove i due battaglieranno anzi sainz non riesce a superare russell nella prima parte di gara mentre leclerc appunto riesce comunque a risalire in quarta posizione sainz un po più in difficoltà gestione gomme che in questo caso sembra sposare davvero molto bene charles leclerc lo so che fino a tre gare fa questa frase poteva sembrare stranissima però sono due weekend che è così ma dato che a melbourne la sf24 non andava un po me l'aspettavo che qui in cina non saremmo andati norris quindi che per il gp della cina porta mclaren in seconda forza in griglia oscar piastri non tanto all'altezza del suo compagno di squadra c'è anche da dire che con lui safety car danno al fondo molto sfortunato nel complesso al giro 45 il passo di norris era 139 435 mentre quello di piastri ha di 141 e 301 distacco che non vai a giustificare facilmente se non per qualche problema anche se c'è da riconoscere che attualmente oscar piastri lo suo compagno di squadra le sta prendendo continua a prenderle e si tutti i problemi del caso ma in questo momento forse anche la testa per il pilota non c'è credo che i probabili aggiornamenti di mclaren per miami saranno determinanti sotto più fronti che è forse il vero punto debole di questa monoposto ma anche perché magari poi piastri vede la vettura rispondere meglio ai suoi input e magari si rianima personalmente parlando credo che il distacco tra i due così grande non sia detto questo forse un recap della classifica finale conviene farlo perché io poi ho iniziato a parlare ma voi magari chi non ha guardato la gara non lo sa vince guarda un po max verstappen secondo lando norris a sorpresa terzo sergio perez forse tra i tanti uno dei più sfortunati in pista sottovalutata la sua gara terzo posto sofferto non ha il passo di max verstappen a tratti accusa anche addirittura mezzo secondo rispetto al suo compagno di squadra però il compito suo secondo me l'ha fatto e quindi non lo vado a uccidere quarto charles clerc quinto carlos sainz sesto george russell settimo fernando alonso che non voglio sbagliarmi ma credo abbia portato a casa anche il giro veloce quindi punto addizionale per lui forse il pilota che ci ha fatto più divertire per tutto il weekend ottavo piastri non ho emilton e decimo nico hulkenberg continua l'ottimo trend di ass in particolar modo supportato da nico e forse insieme a lando norris l mvp di giornata complimenti a lance troll che canola ricciardo complimenti a kevin magnus che compromette in parte la gara di zunoda lì forse più un contatto di gara stroll a parer mio è stato davvero inqualificabile errore di distrazione in pista peccato perché ricciardo anche un po fortunato con la safety la sua gara la stava facendo era il riscatto e invece adesso si arriva a miami che ho paura sia un po un ultimatum ho paura della politica redbull non penso abbia altro da segnalare tutto sommato la gara è stata abbastanza monotona se non fosse per il pit stop della redbull 2 0 e 2 1 doppio pit stop ok 9 secondi di distacco 2 0 e 2 1 doppio pit stop da parte della red bull al di là della macchina probabilmente la migliore in pista tutto quello che volete voi qualcun altro ci vincerebbe con quella sono totalmente d'accordo su alcuni punti però immagina entrare ai box e guadagnare facendo il pit se verstappi mi entra mi fa un cambio gomme in 2 0 e poi charles clerc entra e mi fa 2 4 sono 4 decimi guadagnati quando è che tutti gli avvenimenti di contorno in casa redbull incominciano un po a scalfire le performance oggi riconosciamo strategia impeccabile una macchina che ha risposto perfettamente in tutte le fasi del circuito a perez che comunque la sua gara l'ha fatta ragazzi se perez è il punto debole della redbull in questo momento stiamo a posto mi aspettavo qualcosa in più dal caso horner dal mercato detto questo iscrivetevi al canale podcast in descrizione analizziamo un po formula 1 e formula 2 insieme miscelandole quindi un bel episodio andatelo recuperare seguitemi su instagram tiktok per mia sfortuna mi sto attivando anche lì sapete vi ho un rapporto contrastante con i reel però servono per mia sfortuna servono ragazzi io vi saluto da tonio era tutto passo e chiudo grazie a tutti